Il Caffè dello Sport L'appuntamento radioponico per gli sportivi triestini Conducono Guido Roberti e Massimo Petronio Guido Roberti e Massimo Petronio Su Radioattività Eh sì, si festeggia oggi al Caffè dello Sport C'è una squadra triestina che questo weekend è entrata nella storia del calcio di lettanti E il Costa Lunga che ha conquistato la Coppa Italia di promozione Vivete con noi questa puntata Con Guido Roberti e Massimo Petronio Fino alle ore 15 su Radioattività Fino alle ore 21 per chi ci sta ascoltando nella replica serale A tra poco Che profumo! Il caffè è pronto È Caffè San Giusto Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo Selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste Dal 1949 149 Eccezionale questa miscela 100% arabica Torrefazione Caffè San Giusto In via dei Cosulici 9 Buon caffè e buona puntata a tutti Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia Cucina tipica triestina nel centro di Trieste In via San Nicolò 10 City Green In via Carducci 43 Di fronte al mercato coperto Il chicco in via Colauti 6 È rivenditore autorizzato San Giusto Caffè Il caffè dello sport Ben ritrovati amici di Radioattività Un saluto da Guido Roberti Puntata di grande festa Oggi è il caffè dello sport Veramente Celebreremo al meglio Un successo che riguarda il mondo Del calcio dilettantistico triestino Tra un po' vi presento il ricchissimo parterre Della puntata di oggi Prima diamo il ben ritrovato A Massimo Petronio Ciao Massimo Eccoci qua Un saluto a tutti gli amici di Radioattività Partiamo subito Perché mi sa che ci sarà tanto da festeggiare Oggi in studio qui a Radioattività Quindi con i tre ospiti di oggi Che ci racconteranno le loro emozioni E non solo Insomma di questa bella vittoria Che racconteremo oggi in puntata Parliamo infatti del Costa Il Costa Lunga Che ha vinto la Coppa Italia di promozione E cominciamo naturalmente Da una protagonista Che non ha bisogno di presentazioni Era già nei nostri studi Per il suo entusiasmo E la sua gioia Che ci trasmette anche E per noi è un grande piacere Averla qui Si tratta della presidentessa Anna Maria Bracco Ciao Anna Maria Ben ritrovata Ciao a tutti Proseguiamo poi con due giocatori Grandi protagonisti Di questa formazione Il portierone Gianluca Zetto Ciao Gianluca Ciao a tutti E poi con un altro giovane Talento di questa formazione Ovvero Marco Del Moro Ciao Marco Benvenuto Ciao a tutti Ciao 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 Allora vedo che hanno già praticamente Preso possesso del microfono Perché lo stanno Ruotando a loro piacimento Ci piace Personalità Benvenuti ovviamente qui su Radioattività Benvenuti al Caffè dello Sport Volevo solo risentire un attimo La voce di Marco Che la vedo un po' provata Mi prego di farmi parlare poco Ecco Adesso spiegheremo Anche attraverso le parole Della presidentessa Il motivo di questa voce di Marco Perché vogliamo capire Come mai È così rocca Così Ed è così Guarda se giocava Eri quello che urlava di più Penso Sì sì urlava urlava Anna Maria Allora raccontaci Presidentessa del Costa Lunga Raccontaci Ma no ma il microfono Lo puoi anche lasciare così Ma mi piace No vedo che Giusto giusto Raccontaci le emozioni Di questa bellissima vittoria Tutto quello che è successo Attraverso la tua voce Dai Beh le emozioni sono tantissime Ancora non mi rendo conto Di quello che hanno fatto I miei gioiellini Io li chiamo i miei gioiellini È una vittoria Inaspettata Anche se immaginavo Però Dopo tante vittorie Come la promozione Il Crazy Cup È stata una cosa Veramente Che non mi rendo ancora conto Veramente Quando ci sono Grandi vittorie di questo tipo Poi in effetti Ci vuole qualche giorno Per carburare Gianluca e Marco Voi vi siete un po' resi conto Di cosa è successo O deve passare ancora qualche giorno No Diciamo che Appena ieri Pian pianino Abbiamo cominciato Almeno io personalmente Ho cominciato ieri A rendermi conto Di quello che era successo Ancora adesso Ogni tanto Se ripenso Ad alcuni istanti Della partita Non ci credo Soprattutto Per i gol Che ha fatto il nostro capitano Steiner Il secondo È stato una cosa Uno spettacolo Calcistico Descrivilo Per chi magari Non era presente lì Descrivici proprio il gol Il gol di Steiner Io dalla mia posizione Ho visto partire Questa palla Che ha fatto questo lancio Diciamo dai 40 metri Il fratello del qui presente Marco E Andrea Ha visto arrivare questa palla Con quella coda dell'occhio Ha visto il portiere fuori dai pali E ha fatto una sorta di pallonetto Al portiere Con questa palla Che non voleva entrare Eravamo tutti quanti Che cercavamo di soffiare questa palla Quindi colpo di testa Giusto Quindi a scavalcare A scavalcare il portiere E tutti quanti Che soffiamano questa palla Per ciò che entri dentro Che ci ha messo praticamente 10 minuti Per arrivare in porta Era infinito Era infinito Un'attesa interminabile Ma una gioia Alla fine fantastica Marco Come mai non eri in campo Che è successo Non per la voce Perché quella L'abbiamo rovinata dopo Diciamo che Ho pagato Il cartellino giallo Rimediato in semifinale L'ero difidato E contro il Cervignano Siamo andati I supplementari E ho preso il giallo Quindi Però ti sei fatto valere Dagli spalti Ma sì Anche dopo partita Soprattutto L'hai recuperato In questa doppia veste Infatti A proposito Della domanda di prima Io volevo dire Che mi sono reso conto Di aver vinto Ieri mattina Quando mi sono svegliato Perché stavo veramente male Per motivi Che non occorre Che specifichiamo Perché penso Che un po' tutti Abbiano capito La motivazione E beh Non sarebbe una squadra triestina Se non avesse festeggiato In un determinato modo E noi siamo assolutamente fieri Anche perché È un titolo Che sicuramente Dà lustro Al calcio triestino Poi quando si affrontano Queste squadre friuliano Pordenonesi Fa sempre piacere Perché quando vale vince Con Casarsa Con queste formazioni qua Vale doppio Noi siamo tristini Un po' di campanilismo Ci sta sempre È un'annata Veramente bella Quella del Costa Lunga Tra un po' Nella seconda parte Cercheremo di capire Come sta andando Invece il campionato Di promozione Oggi abbiamo solo In questa prima parte Introdotto Il grande successo Del Costa Lunga Andremo con la presidentessa Un po' Anche a scoprire Cosa c'è dietro L'aveva già raccontato Ma veramente Il lavoro prosegue Con una certa continuità E poi con i ragazzi Vedere cos'è cambiato Anche a livello spogliatoio Ma fondamentalmente Il Costa Lunga Resta una grande famiglia Questo è il frutto E i risultati Sono sotto l'occhio di tutti Prima pausa Diamo la linea Agli sponsor Poi torniamo Al Caffè dello Sport Il Caffè dello Sport Ritorna tra poco Bruta giornata Tega in frigo Una roba vecia Ma vieni a mangiare Alla tezza Viva la E fa a voi Poste spetti Chiama 040 36 43 22 Che buoni Gnocchi col goulash La jota E il cotto Vecca Trieste E le patate in teccia Che buon profuming Te ne trovi In via San Nicolo 10 E Zerchine su Facebook Porta anche la vecia Alla teccia Che il caffè E te lo offro a me Sempre allegri Ma passione Viva la E' Viva la Viva la City Sport E' da sempre lo sport Della Venezia Giulia Se vuoi sapere tutto Su tutte le discipline sportive Del territorio Scegli e chiedi Il settimanale City Sport Nuovo formato Nuova grafica Nuovi contenuti E stessa garanzia Di completa informazione City Sport Scoprilo ogni lunedì Nedicola Nel nuovo formato Tabloid Con più pagine E più colori Il caffè dello sport Ogni martedì A Radioattività State ascoltando Il caffè dello sport Su Radioattività Siamo con gli amici Del Costa Lunga Gianluca, Marco E la presidentessa Anna Maria Stiamo festeggiando Questa bella vittoria In Coppa Italia Di promozione Trofeo conquistato sabato Abbiamo saputo Qualcosina di festeggiamenti Ma c'era un doppio festeggiamento Addirittura L'abbiamo saputo Adesso nel fuorionda Perché il qui presente Gianluca Aveva proprio il compleanno Proprio quel sabato Il giorno proprio Della finale Quindi hai festeggiato doppio Non hai festeggiato Prima la partita Meglio di no Dopo la partita Doppio però Sì, quello sì Sì, sì, sì Doppio Anche triplo Quadruplo Perché abbiamo dato Veramente tanto Nel terzo tempo Che si è prolungato Fino a tarda notte Quasi mattina Dai, diciamo Da domenica Beh, auguri Da parte della redazione Sportiva di Radioattività Poi c'è anche un altro Del Costa Lunga Che faceva Il Esticabio Auguri anche a lui Allora Sì, è stata tutta Una festa generale Ecco Coronata con la Coppa Raccontateci Proprio della finale Allora 2-1 A Cormons Contro il Casarsa Abbiamo raccontato Di questo gol di Steiner Che era il secondo Era il 2-1 Però Eravate partiti In svantaggio Nel senso che Hanno sognato per prima Gli avversari Poi come si è svolta La partita Come vi siete ritirati su No, diciamo che Sì, primo tempo Siamo partiti Abbastanza sotto tono Ecco Per il gioco Che è il Costa Lunga Sicuramente Sapevamo che era difficile Sia per la squadra avversaria Sia perché comunque Ci mancavano Quattro pedini Importanti della squadra Quindi sapevamo Che non era una passeggiata Tra il primo e il secondo tempo Il mister Ha detto che Dovevamo svegliarci Si è fatto sentire Diciamo Le parole esatte No Meglio di noi Restano nello spogliatoio Quello che succede Nello spogliatoio Resta nello spogliatoio Esatto Ha detto che Questo qua non era Il gioco del Costa Lunga Che non era il Costa Lunga Secondo lui in campo Che bastava entrare in campo E dimostrare Cos'era il Costa Lunga Che secondo lui Ce la potevamo fare Infatti Siamo entrati in campo Praticamente dopo 5 minuti E che eravamo in spogliatoio Perché non c'era più niente da dire Ci siamo raggruppati Un attimo a centro campo E il nostro capitano Appunto Stainer ha detto Ragazzi Sono 50 minuti Adesso di battaglia Di guerra Quindi vediamo di dar tutto E poi alla fine Se vinceranno loro Daremo la mano agli avversari Portiamola a casa Portiamola a casa È stato proprio Due parole sul mister Su Corona Beh sicuramente Una grande soddisfazione Anche per lui Gianluca Le tue opinioni Su questa persona Sia come uomo Che come tecnico Beh sicuramente Corona è arrivato L'altro anno A metà campionato Che era stato Noi avevamo Cerone Come allenatore Poi è stato esonerato Per motivi Sia Diciamo Tecnici Ma più che altro Perché serviva A dare una sveglia Alla squadra Come servono in molte occasioni E da quando è arrivato lui Diciamo che sicuramente Ha dato Lo spirito Uno spirito diverso Il Costa Lunga Più serietà E sicuramente Anche negli allenamenti Ha dato Qualcosa in più Forse che serviva A questa squadra Per crescere Per fare Il salto definitivo Facciamo parlare Anche un po' Marco Che così Magari passa anche Il mal di gola Come si svolge Proprio tecnicamente Questo trofeo Che squadre avete affrontato Quante ne avete affrontato E anche a livello Praticamente di promozione E proprio il percorso Ok allora Il torneo Si basa su tutte le squadre Che partecipano Al campionato di promozione Regionale Inferulli-Venezia-Giulia Quindi sia le squadre Del girone A Che del girone B È strutturato Nel seguente modo C'è una Una prima partita Strutturata Adesso Andata e ritorno Che si gioca proprio A inizio campionato Proprio Subito dopo la preparazione Quindi Agosto-Settembre Noi abbiamo incontrato La SPA il Cordovado Abbiamo vinto 2-0 in casa E siamo andati A pareggiare 2-2 A Cordovado Quindi ci siamo qualificati Quindi abbiamo affrontato Agli ottavi di finale Abbiamo affrontato Il Lignano In casa E abbiamo vinto 2-1 Tra l'altro Lignano Che è la squadra Che sta vincendo Prima in classifica Nell'altro girone Poi abbiamo affrontato Il Pravis Domini Ai quarti di finale Anche una squadra Molto quotata Che va speso molto Sul mercato Con molti giocatori Di nome Però abbiamo vinto 2-0 3-1 3-1 3-1 Beh la differenza Di due c'era Esatto Poi abbiamo affrontato Il Cervignano In semifinale Una partita Roccambolesca Vincevamo 2-0 Fino a 5 minuti Dalla fine Abbiamo preso Due gol In pochissimi minuti Siamo andati In supplementare Abbiamo vinto 3-2 Con gol di Lorenzo Zugna Sottunizione E quindi Siamo arrivati Alla grande finale Di sabato Contro il Casals Un bel percorso Un bel riassunto Complimenti Presidentessa Attenzione Anna Maria Perché secondo me Lui ha menzionato La Spai Cordovado Di questo passo Tra un po' Andrete a Ferrara A affrontare La Spai La crescita Del Costa Lunga È incredibile Possiamo solo Andare a spalare Come sta andando Il campionato Di promozione Sta andando Molto bene Perché c'è certo Un San Luigi Rullo compressore Ma voi siete lì dietro Siete al secondo posto Sì Complimenti a San Luigi Che appunto è così Però insomma Se mettiamo Il San Luigi Il Costa Lunga Il Costa Lunga Non ha proprio niente Come dice qualcuno Siamo una stella Che nasce e muore Ma va bene Moriremo contenti Perché Ma quanto brilla Ma quanto brilla Quanto brilla Questa stella Eh E San Luigi Anche giusto Perché comunque Insomma Ha Gli giocatori bravi Però alla fine Noi siamo secondi Con Loro Che Non Percepiscono niente Come sapete già E fanno tutto Per Proprio Per la maglia E giocano Meglio Di quelli Che prendono Anche mille euro Al mese Non faccio nomi Perché non è giusto Adesso è il momento Della musica Il caffè dello sport Facciamo una breve Introduzione Poi lanceremo Proprio la musica È una scelta particolare Che ovviamente Va spiegata Chi la spiega Gianluca Marco Spiego io Io sono quello Che guida Di solito in auto Allora Saperi che mettono La musica Quando si va in trasferta Quindi Diciamo che Ormai da qualche anno Da quando siamo andati su In promozione Che Tutte le nostre trasferte Hanno come colonna sonora Fiumi di parole Dei Gialis Parano che vinse Sanremo Quindi Mai più visti Ma soprattutto Perché ascoltano Fiumi di parole Non sappiamo neanche noi È successo forse In una serata Che abbiamo bevuto Un paio di birri in più Che abbiamo cominciato a cantare Quindi E da lì è partita Questa cabala È uno dei segreti Del Costellunga Sì I Gialis Che Non li conosce Quasi nessuno Anche se adesso Ci stiamo buttando Un po' di più Sul Balcan In onore Dei nostri compagni Di squadra Esatto Invece è tutto dal Balcon Dalla felicità però Allora andiamo ad ascoltare Questo pezzo Poi andremo in pausa pubblicitaria Poi torneremo Questa divertentissima E felice puntata Del Caffè dello Sport Qui su Radioattività Cialis Fiumi di parole Mi aspetto Mille spuse Come sempre Da te Il Caffè dello Sport Ogni martedì A Radioattività Ti darò il mio Ti darò il mio cuore Se vuoi Se vuoi Ora parla con lui Fiumi di parole Il Caffè dello Sport Ritorna tra poco La nuova gestione del ristorante In riva Tommaso Tommaso Bulli 8 Aperto tutti i giorni Fino alle 23 e 30 Ideale Anche per tavolate E feste per bambini E facilità di parcheggio Ciao sono Maurizio Un alabardato come voi Nel dicembre del 1999 Avevo 25 anni Una sera Un'auto Ha invaso la mia corsia Ha travolto la mia macchina E mi ha ucciso L'autista era ubriaco Non bere quando devi guidare La vita è il bene più prezioso Che abbiamo Non gettarla via Rispetta la tua E quella degli altri Forza unione Dal cielo Il Caffè dello Sport Ogni martedì A Radioattività Nuovamente in studio Con Guido Roberti E Massimo Petronio Questa puntata Del Caffè dello Sport Ricordiamo alcuni Appuntamenti Molto importanti A cominciare Da quello di domani A partire Dalle ore 19 Nuovo appuntamento Con Noi Siamo I Biancorossi La rubrica Dedicata Alla Pallacanestro Trieste In collaborazione Con l'Admo Friuli Venezia Giulia Puntata davvero interessante Perché avremo Jordan Parks E l'ammiraglio Nelson Nella prima parte Avremo un'intervista Al presidente Marzini Al neo presidente Marzini E poi lo spazio riservato All'Admo Quindi associazione donatori Midollo Osseo Consultate il sito www.admofwg.it Per capire la missione Che l'Admo si propone E poi ricordatevi Che questa è la settimana Che ci porterà All'appuntamento eccezionale Per il panorama cestistico Ovvero Trieste Treviso Domenica Dal Pala Rubini Ore 18 Tutti al Pala Rubini Mi raccomando Per chi non va lì Radio Cronaca Di Emilio Riperi E Marco Catenaci Su Radioattività Torniamo a parlare Del Costa Lunga Però con i nostri ospiti Allora si parla Di questa Grandissima Vittoria Però adesso vogliamo Capire qualcosa di più Di questi festeggiamenti Noi andiamo un po' Nel dettaglio Ecco Chi è il più scatenato Di quella squadra Posso immaginare Un po' Conoscendo abbastanza Il gruppo Però come sono andati Veramente i festeggiamenti Gianluca Il peggio messo Voglio sapere Presidente Presidente Ha dormito fuori casa Dopo Ha dormito fuori casa Come sempre Il Presidente Braco ha fatto Il suo show A fine partita A che ora È tornato a casa Non è ancora Tornato a casa Siamo tornati assieme La domenica mattina Io il Presidente Perché voleva Aspettare i giornali Sì sì Aspettavamo il piccolo Per vedere Il titolo Fresco fresco Subito la notizia No diciamo che Quello mi ha messo peggio Dei giocatori Sicuramente era Tropea Che Schifo Uno schifo addirittura Dice Mario Sì sì E poi Capultra Era Il buon Brasteiner Che si è messo A pretonudo sui tavoli A incitare Diciamo La folla E poi tutti gli altri Dietro A seguirlo A bere Abbiamo infatti Quelli della Cormonese Che ci hanno ospitato Per la finale Hanno detto che Se vogliamo Possiamo tornare Ogni domenica A fare il terzo tempo Justo l'incasso Praticamente La Cormonese Si è pagata Praticamente Il campionato prossimo O i prossimi Campionati Anche perché Per nostra fortuna Avevamo a supporto Una ventina di Ultras Della Triestina Che Hanno fatto Non si sono fatti Mancare niente Esatto Allora A proposito di Festeggiamenti Invece sugli spalti Durante la partita Che tipo di cori C'erano Che striscioni Avevano preparato I vari tifosi Sia appunto I tifosi dell'Unione Sia parenti Amici Fidanzate Marco Vabbè guarda Io Eri il capo ultra Mi sono defilato Proprio per cercare Di capire qualcosa Della partita Guardavi più Da un punto di vista Tecnico Tattico Sì sì Mi sono messo Proprio lontano Da loro Proprio per Per riuscire a capire Qualcosa di quello Che stava succedendo In campo E non farmi distrare Da varie birre Cori strani Fatto sta che Mancabile C'era lo striscione In memoria Di Gianluca Fiori Il ragazzo Ragazzo Che poi abbiamo portato Anche in campo A fine partita Che Vuol dire molto Per il Costa Lunga Ecco Perché Che vive nel Costa Lunga Perché comunque Sento parlare del Costa Lunga Sa che Che c'è Questo Questo dovere Che sicuramente Ogni domenica Noi Abbiamo lo striscione In suo nome Perché È stato Lui è una pedina Importante per il Costa Lunga E poi anche Il padre Comunque Ha collaborato per anni Con il Costa Lunga È una cosa importante Per noi Bellissimo questo ricordo Infatti C'è ogni anno Il Memorial E in questo caso Voi avete onorato E sicuramente La stella Di Gianluca Vi ha illuminato Ed è lì con voi In questo momento A festeggiare Perché avete fatto Una cosa anche Per lui Vediamo un po' I vostri ruoli Gianluca L'abbiamo già detto In apertura Portiere Invece Marco Descriviti un po' Da un punto di vista tecnico Fatti la scheda Come se tu fossi Un allenatore In questo caso Devi autovalutarti Vabbè Molto difficile Dai Insomma No vabbè Io gioco Centrocampo Centrocampo centrale Giochiamo con Un 4-2-3-1 Quindi io sono Uno dei due Deputati A stare davanti La difesa Diciamo che Il mio compito È quello di Guidare un po' I miei compagni Sistemarli in campo Essendo proprio In un ruolo centrale E poi cercare di Impostare un po' Il gioco Dai Una regia Dimemola così Stessa domanda per Gianluca Ovviamente Eh boh Io gioco in porta Io ho la fortuna Di avere una gran difesa Una gran squadra davanti Quindi vengo impegnato Molto poco Durante Durante le partite Però Quel poco Che sono chiamato in causa Ogni tanto Cerco di fare il mio dovere Il più possibile Ecco Poi capita anche Che si sbaglia Quindi Però si cerca di fare il possibile Ogni domenica Comunque non facciamo mai Quando Gianluca fa qualche cagata Diciamo che Gliela facciamo subito pesare Esatto Non è che se la dimentichiamo A presto Devo offrire a tutti Insomma Minimo Più le bastonate Durante la settimana Il vostro arrivo al Costa Lunga Quando e come siete arrivati Chi vi ha portato O come siete arrivati al Costa Lunga Io sono arrivato Al Costa Lunga Dopo l'anno Che ho fatto Al Crash Sono arrivato Il primo anno Di Serie D Del Crash Sono arrivato Al Costa Lunga Che c'era Presidente Ancora Il vecchio presidente Tesovic E Ho fatto un anno Solo in promozione Purtroppo sfortunato Perché Siamo usciti Della promozione Nella prima categoria Perdendo il play out Quello Zaule E Via da lì Sono andato Alla Triestina Ho fatto un anno Alla Triestina E poi sono tornato In casa Diciamo Perché ormai È come la mia famiglia Costa Lunga E infatti Ci si è riscattato Subito il primo anno Che sono tornato Vincendo la prima categoria I play out Adesso andiamo in pause Poi la domanda La rivolgiamo anche a Marco Ovviamente Pause E poi ancora qui Al Caffè dello Sport Su Radioattività Il Caffè dello Sport Ritorna tra poco Che profumo Il Caffè è pronto È Caffè San Giusto Le migliori qualità di caffè Da tutto il mondo Selezionate e tostate Con cura artigianale A Trieste Dal 1949 Eccezionale Questa miscela 100% arabica Torrefazione Caffè San Giusto In via dei Cosmic 9 Macinato per la moca Cialde Capsule compatibili Tazzine Confezioni regalo In macchina espresso Questi e tanti altri prodotti Li trovi anche da Il Chicco In via con la UT6 A Trieste Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè Libera Mente La nuova trasmissione Di radioattività Alla scoperta Dell'affascinante mondo Della psicologia Ogni giovedì Alle 19 Un viaggio Tra i segreti Della mente Con la dottoressa Maria Bossa Clicca mi piace Su www.facebook.com Slash Libera Mente Radioattività E partecipa Con le tue domande E curiosità Libera la tua mente Tutti giovedì alle 19 Su Radioattività City Sport E da sempre Lo sport della Venezia Giulia Se vuoi sapere tutto Su tutte le discipline sportive Del territorio Scegli e chiedi Il settimanale City Sport Nuovo formato Nuova grafica Nuovi contenuti E stessa garanzia Di completa informazione City Sport Scoprilo ogni lunedì Nel nuovo formato tabloid Con più pagine E più colori Il caffè dello sport Ogni martedì A Radioattività Questa è Radioattività Questo è il caffè dello sport Siamo con gli amici Del Costa Lunga Gianluca Marco E Anna Maria Gianluca e Marco Vorrei un vostro parere Su questa straordinaria Presidentessa Perché L'abbiamo vista L'abbiamo sentita Vulcanica Emotiva Forte Dateci un vostro parere Da vicino Perché ovviamente Noi la conosciamo In maniera più Distaccata Insomma Da giornalisti L'abbiamo intervistata Un paio di volte Voi invece La vivete Come dire Ogni giorno Vabbè Posso dire io Che è proprio Come la vedete voi Cioè Un aggettivo Che è proprio Unica Unica Se una Se non la conosce Pensa che si appazza Umbriaca Sì Solo che a Stegna Ecco quindi Sì no È veramente È veramente Vulcanica Non so Trova Un'energia Incredibile Sempre E I post partita Con lei Sono Tra lei E il presidente Sì speciali Uno fa le show Lei ride E si mette sui tavoli A ballare Chi che ha l'opportunità Potrebbe venire a Muge Nel post partita Per vedere un po' Se vuole Farsi un due risate Può passare Ecco A proposito del presidente Anche su di lui Parliamo un po' di lui Dai raccontiamo di lui Dai Raccontiamo Ci sarebbero molte cose Da raccontare Però la maggior parte Delle cose Non si possono raccontare Meglio No Anche lui Anche lui Una gran persona Ha Ha fatto rinascere Costalunga Dopo che sembrava Che Che non ci dovesse Essere più niente Che il Costalunga Non doveva più esistere Costalunga era rimasto Con due giocatori Di proprietà Ha ricostruito Una squadra Appunto Da due giocatori Dal nulla Senza Un campo di allenamento Senza una struttura Propria È riuscito a tirare su Una squadra Che Alla fine Si sta rivelando vincente Perché da quando Che ha preso in mano La squadra Il signor Bracco A parte qualche innesto Uno o due giocatori Che è arrivata invece L'avventura Che è arrivata l'avventura Costa Lunga Questo Di quest'anno Ormai il quarto anno Che indossiamo La maglia giallonera Prima come hai detto tu Giocavamo col Trieste Calcio Dopodiché Non avevamo molto spazio Quindi abbiamo Abbiamo deciso di andare a fare Un'esperienza per giocare Abbiamo saputo dell'interesse Del presidente Bracco Che era appena arrivato Alla guida Dei Costa Lunga E abbiamo deciso Di accettare Questa sfida E di aggregarci Alla squadra Che stava creando Loro erano appena Scesi dalla promozione In prima categoria Abbiamo fatto Un primo anno Diciamo Di passaggio In prima categoria Secondo anno Sono arrivati Giocatori Che ci hanno dato Una mano Come Gianluca E altri Abbiamo vinto Il campione I playoff Siamo andati In promozione Poi l'altro anno Primo anno In promozione Comunque Un'esperienza nuova Con Campionato diverso Molto più difficile Perché comunque Richiede la presenza Dei fuori quota Che Quindi è tutto Un mondo nuovo Ci siamo Salvati Con l'arrivo Di Mr. Corona Comunque un campionato Positivo Era il nostro obiettivo Questo anno Con un altro entusiasmo Un'altra Un'altra consapevolezza Abbiamo affrontato Questo campionato Che ci sta regalando Veramente Soddisfazioni incredibili Speriamo Di andare avanti così Tu e tuo fratello Luca Vi muovete Tra virgolette Sempre assieme Tra le squadre Sì 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 Abbiamo sempre giocato insieme Sempre Cioè è una scelta Che capita Ad altri fratelli Diciamo che conosci O di solito Ci si divide Come Più spesso Che si va uniti Ma boh Dipende Ti dico Io e lui abbiamo Avuto sempre Lo stesso trascorso Ma anche Circostanze Ma anche per scelta Però Il ruolo È diverso Lui terzino sinistro Anche se Sabato ha giocato Centrocampo Quindi eravate Proprio la coppia Ah no È giusto Tu non c'è Io centro Di solito però Anche capita Che giocate Al centrocampo V2 Tipo E poi ancora Il caffè dello sport Fino alle ore 15 Il caffè dello sport Ritorna tra poco La nuova gestione Del ristorante Pizzeria Rosso Pomodoro Vi aspetta Per deliziarvi Con la vera pizza Napoletana Con impasto Doppia lievitazione Minimo 24 ore Massima leggerezza Il tutto Con prodotti Di alta qualità Campana Controllati E certificati Da rosso pomodoro Puoi gustare Dalla pizza Alla pasta Dalla insalatone Ai piatti di pesce Dai pagnottielli Ai salti in bocca Oltre ai fantastici dolci Fatti in casa Rosso Pomodoro Nuova gestione In riva Tommaso Gulli 8 Aperto tutti i giorni Fino alle 23 e 30 Ideale Anche per tavolate E feste per bambini E facilità di parcheggio Ciao Sono Maurizio Visentin Un alabardato come voi Nel dicembre del 1999 Avevo 25 anni Una sera Un'auto Ha invaso la mia corsia Ha travolto la mia macchina E mi ha ucciso L'autista era ubriaco Non bere quando devi guidare La vita è il bene più prezioso che abbiamo Non gettarla via Rispetta la tua e quella degli altri Forza unione Dal cielo Bruta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vien a mangiare la teccia? Viva la vita è il buon bobo Poste spetti Ciamat 040 36 43 22 Che buoni Gnocchi col goulash La iota Il cotto becca trieste E le patate in teccia Che buon profumin Te ne trovi in via San Nicolo 10 E zerchine su Facebook Porta anche la veccia Alla teccia Che il caffè te lo offro a me Il caffè dello sport Ogni martedì A radioattività Costa Lunga Il caffè dello sport Oggi Allora nel fuorionda Emergevano anche altre curiosità Che riguardano i fratelli del Costa Lunga Oltre a Moro Ce ne sono altri E poi A proposito di esultanze Che è l'argomento Con cui ci siamo lasciati Nella parte precedente Chi ha l'esultanza Più strana del Costa Lunga Più brutta anche da vedere Più originale Non so Cioè Se è qualcosa Da raccontare Io mi ricordo Di un'esultanza di Tropea Che è finito ammusata Sotto la tribuna Sì 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 Dopo una partita di coppa Steso da Del sempre tranquillo Steiner Ha tirato uno schiaffo in schiena Che ha perso Ancora il segno penso Ha perso due costele Per strada E lo sterno Sì 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 No però non c'è Non c'è nessun tipo di esultanza Veramente Diciamo Come dire Strana no È successo magari qualche volta Che abbiamo esultato Facendo finta Di darci il cin Diciamo Col bicchiere di birra Ma Più di tanto no Quest'anno ci siamo abbastanza contenuti E con gli anni prima Magari poteva capitare Tropea tra l'altro Questo Tropea L'abbiamo pronunciato più volte Quindi sarà contento Anche di essere citato Tra l'altro Anche in occasioni piacevoli Mi pare di capire Sì Viene anche il sospetto Avete fatto calcio mercato Al torneo di grido libero L'avete visto giocare In finale Contro di voi L'avete preso Perché ha giocato Con la nostra squadra Che era imparcita Di alcuni ragazzi del crash C'era anche Tropea Era stato il migliore in campo Matteo Il momento più bello A parte questa vittoria Di campionato Una vittoria particolare Gianluca Perché Magari Insperata O perché Rimonta Diciamo che Ci sono stati Ci sono state Un paio di vittorie Che Più che insperate Sono state Veramente Fatte col cuore Che Posso citarne alcune Come La partita di andata Col Trieste calcio Vinta una zero In casa loro Che Appunto Come Qualcuno Sai Come qualcuno Può immaginare Per noi Il vero derby triestino Costa Lunga Trieste calcio È la partita che conta Di più o meno Della parte del Costa Lunga Magari Della parte del Trieste calcio No Come dice qualcuno Della loro parte No Quindi Perché per loro Giocare campionato È così Giusto per Per valorizzare i giovani Però poi In campo Voglio vedere Se è così Sicuramente Sì La partita col Trieste calcio E anche con la Juventina All'andata diciamo Che sono le due partite Quelle più simbolo Che dimostrano secondo me Tutta l'andatura della stagione Essendo gli secondi Avendo vinto due partite così Contro due squadre comunque Più quotate di noi Diciamo Queste due Sono le partite più Più belle Che mi ricordo Adesso faremo Un'ultima brevissima pausa Poi chiederemo Alla presidentessa Anna Maria Il motivo di quelle Quattro stelle Che L'avevamo già chiesto Nella puntata Scorsa Due anni fa Mi pare Quando Un anno fa Due anni fa Quando sei venuta qui A trovare Sare di attività Te lo richiederemo Di nuovo Pausa E poi ancora Caffè dello Sport Il caffè dello Sport Ritorna tra poco Liberamente La nuova trasmissione Di radioattività Alla scoperta Dell'affascinante mondo Della psicologia Ogni giovedì Alle 19 Un viaggio Tra i segreti Della mente Con la dottoressa Maria Bossa Clicca mi piace Su www.facebook.com Slash Liberamente radioattività E partecipa con le tue domande E curiosità Libera la tua mente Tutti giovedì alle 19 Su radioattività Che profumo Il caffè è pronto È caffè San Giusto Le migliori qualità di caffè Da tutto il mondo Selezionate e tostate Con cura artigianale A Trieste Dal 1949 Eccezionale Questa miscela 100% arabica Torrefazione Il caffè San Giusto In via dei Cosmic 9 Macinato per la moca Cialde Capsule compatibili Tazzine Confezioni regalo In macchina espresso Questi e tanti altri prodotti Li trovi anche da Il Chicco In via con la UT6 A Trieste Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè Il caffè dello sport Ogni martedì A radioattività Ultime battute Al caffè dello sport Io mi inserisco Solo qualche secondo Per ricordarvi nuovamente L'appuntamento di domenica Radio cronaca Di Alma Trieste Contro De Longhi Treviso Un derby Triveneto Che sicuramente Farà registrare Il tutto esaurito Al Pala Rubini Siamo in chiusura Di puntata Per cui Abbiamo alcuni spunti Lasciati in sospeso Massimo So che avevi Una domanda da fare Alla nostra presidenta Anna Maria Allora Era Questo discorso Delle quattro stelle Perché Non triplete Ma quadrupleta addirittura È stato fatto Dal Costa Lunga Raccontaci esattamente Di cosa si tratta Le quattro stelle Sono state messe Da mio marito Che è un po' megalomane Dal presidente Dal signor Dal signor Bracco Presidente Un po' megalomane Che voleva far capire A tutti I quattro titoli Che è la promozione I due crazy cup E il Giulia Ma in effetti Sabato sera Parlando col gemello Di Marco C'è Luca Luca dice che Le stelle Vere e proprie Sono due La promozione E questa di Di sabato Comunque Noi avevamo messo Quattro stelle Perché dato che Una si spegne subito Quattro brillano Benissimo Quindi le quattro stelle Hanno un significato Che tutti si chiedono Ancora Perché sento gente Che in mezzo al pubblico Dice ma cosa vuol dire Quelle quattro stelle E un giorno Mi sono stufato Perché non potevo più E gli ho detto Che siamo Che Abbiamo come sponsor La Negroni Perché sai le stelle Sono tante Davvero Una risposta originale Giusto Mi hanno creduto Ed ho detto Perché arrivi qua Perché la Negroni Insomma è una Una vita Molto Uno sponsor Importante Invece non avevamo niente I Negroni Abbiamo Ma sono andati I due Ma non abbiamo Nessun sponsor Negroni Abbiamo la La climatizzazione Che ci sta Ecco ecco Citiamo Citiamo gli sponsor E ci sta aiutando Diciamo E poi Marco Zuballi Mima Sport Che Con noi Diciamo Siamo io Lui Mio marito E Calu Luca Luca Sì Che poi adesso Diventerà papà E quindi Il papà De Marjanovic Che ci aiuta E Si cari Insomma Altri Come dicevate voi Non abbiamo altri Andiamo avanti No Con i sacrifici Con i sacrifici Però abbiamo anche avuto Tante soddisfazioni Da questi ragazzi Perché veramente Come detto prima Gianluca Il presidente Ha fatto un buon lavoro E' stato lui A Diciamo A Contattare Vari giocatori Che poi Gli hanno dato soddisfazione Anche se Zetto Era un po' Che mio marito Che il presidente Lo corteggiava Lo corteggiava Sì 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 Lo corteggiava Gianluca Cosa guardavi prima Un flash Sul cellulare Guardavi Foto dei festeggiamenti Sì perché Tanto che domenica Ci siamo Ci siamo Alzati Diciamo Con la calma Ecco A pomeriggio Inoltrato Avevamo Un casino di notifiche Sia su facebook Giravano un po' di foto Con foto Complimenti E tutto E abbiamo notato Che c'è stata una foto Messa dal nostro compagnolo Di squadra Lugar Che Fatta appunto Dal qui presente Marco Del Moro E sullo sfondo C'è diciamo Il fondo schiera Di suo fratello Proprio In bella vista Che si vede Molto bene Allora Diciamo che In via del tutto Eccezionale Per questa puntata Del caffè dello sport Potremmo fare uno spin off Dopo mezzanotte Esatto In fascia protetta In fascia protetta Grazie ancora Complimenti Permettetemi un saluto speciale Proprio lui A Calu Che ha fatto anche Da ufficio stampa In questo caso Nel indirizzare voi Qui da noi A radioattività Complimenti ancora Tutto a costa lunga Veramente Bravi Bravi Grazie Grazie Al prossimo martedì Ciao 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 Grazie Il caffè dello sport L'appuntamento radiofonico Per gli sportivi triestini Conducono Guido Roberti E Massimo Petronio Guido Roberti E Massimo Petronio Su radioattività Su radioattività Su radioattività Il caffè dello sport Vi è offerto da La Teccia Cucina tipica triestina Nel centro di Trieste In via San Nicolò 10 City Green In via Carducci 43 Di fronte al mercato coperto Il chicco In via Colauti 6 È rivenditore autorizzato San Giusto Caffè Il caffè dello sport